Lombardia, Friuli, Venezia e Giulia Dobbiamo scoprire qual è il motivo in sito dentro di noi che ci porta a dire Friuli, Venezia e Giulia Mettendo prima Lombardia Perché se la Lombardia è di qua e noi leggiamo da qua a là mettiamo prima Lombardia Ma se la Lombardia è di qua e noi partiamo da là dobbiamo dire Friuli, Venezia e Giulia e Lombardia Ma ciò che importa è che il passito di Pantelleria, Friuli, Venezia e Giulia e Lombardia Arriva da Friuli, Venezia e Giulia, Lombardia Perché lei dice che il passito di Pantelleria arriva dal Friuli, Venezia e Giulia o dalla Lombardia? Il passito di Pantelleria arriva da Pantelleria Eh ma lei mi ha detto Friuli, Venezia, Giulia e Lombardia Gucciave La provenienza di Pantelleria Però noi sappiamo tutti che noi in Ghiangucciave Gucciave Tra Genova e Savona, il Nero d'Avola, da dove arriva? Genova In Ghiangucciave Il Nero d'Avola bianco, a quale tipo di cibo lo accoppiamo? Al pesce Gucciave Umbria, Molise, Molise e Umbria Umbria, Molise Sono vicini perché siamo nel centro dell'Italia Benissimo, le pesche di Bivona, Umbria, Molise, da dove arrivano? Dall'Umbria Perché? Penso che sia questo il ragionamento Umbria, Molise E lei lo pensa perché io? Perché io le ho mangiate Ah perché lei le ha mangiate Molto buone Non perché io gliel'ho suggerito No Ustica di fronte Palermo, Pantelleria di fronte Cagliari Pantelleria di fronte Cagliari no Dov'è? Pantelleria di fronte Palermo In linea d'aria più o meno Lei si lascia condizionare generalmente? No Però poco fa è sembrato di sì Provenza Giulia Lombardia Quindi io potrei far credere che lei ha raccontato delle frottole Che in realtà sono stato io a dirle Esatto Esatto Lei cosa direbbe alle persone per non lasciarsi condizionare? Che bisogna usare il proprio cervello E che bisogna molto informarsi non da una fonte ma da altre fonti Ma attenzione perché bisogna ricordarsi di non abbandonare le proprie posizioni se ne siamo sicuri Esatto Pantelleria si trova? In Sicilia Provincia di? Palermo Sicuro? Al cento per cento In Ghianguicciare Nella mia casa è Piazza Grande